Salve amici di YouTube. Prima giornata di campionato per il Torino e la Pistoiese, che si affrontano davanti a un pubblico tutto granata. Quasi 10 di gioco. E Pulici di testa impegna il portiere della Pistoiese. Due minuti dopo. Ci tenta Zaccarelli. Ma il suo tiro si spegne fuori. Quindicesimo. Paolino Pulici mette fuori una grande occasione. Venticinquesimo. Ciccio Graziani sbaglia davanti al portiere toscano. Dopo 30 minuti arriva il primo tiro in porta della Pistoiese. Ma, Frustalupi viene stregato dal portiere Granata. Ancora Pistoiese. Mago Stinelli mette fuori. Nei minuti di recupero grande occasione per Graziani. Ma il portiere dice ancora no. E il primo tempo si chiude a reti bianche. Con le immagini, montate da Turi Perri, passiamo alla ripresa. Al 74esimo. Arriva il gol del Torino. Pulici serve Graziani che si libera e scaglia una bomba ferraria che si infila in rete per l'1-0 Torinese. Torino 1, Pistoiese 0. Rivediamo il bellissimo gol di Ciccio Graziani. E dopo un secondo tempo abbastanza noioso, l'unica azione degna di nota è stato il gol del 1-0. Torino batte Pistoiese 1-0. Da Games Football TV è tutto. Buon proseguimento con i programmi di Games Football TV. Ciao e alla prossima con la serie 1980-81. Alla prossima.